Giugnato, la vittoria 3-2 per l'Italia contro la Georgia, un commento su questa prima importante vittoria? Molto emozionante, felicissimi di questa prima vittoria internazionale, grazie a tutta la squadra, al team, a tutti voi. Cosa ha funzionato secondo te? La voglia che abbiamo messo in più oggi rispetto alle altre volte. Bene, un pochino vuole che bravo, grazie.